Trattamento di S.A. attività a casa o in studio? E' una domanda che mi pongono molti colleghi, operatori, genitori, insegnanti. Bene, è efficace lavorare sicuramente anche a casa, oltre che al lavoro in studio con l'operatore. Vediamo perché. In questa ricerca del 2007, ulteriori evidenze sull'efficacia dell'automodizzazione del riconoscimento sublessicale per il trattamento della dislessia evolutiva vengono messi a confronto i lavori svolti in studio e i lavori svolti a casa in cui i risultati pressoché conciliano fra di loro. In quest'altra ricerca invece che abbiamo condotto con i nostri collaboratori nel 2014 che appunto cercava di rispondere ad una domanda, ovvero interventi a casa o con l'operatore abbiamo osservato i seguenti risultati, ovvero che sia a casa e sia con l'operatore come nella ricerca precedente si ottengono dei buoni risultati ma anche lavorando insieme sia a casa e con l'operatore. In quest'ultimo caso però possiamo variegare, ampliare la gamma di esercizi e di attività da fare seguire al nostro bambino, il tutto chiaramente con un tipo di efficacia statisticamente significativa. Dunque anche un lavoro svolto poco ma spesso ottiene risultati con efficacia significativa. Oltre ai lavori studio è bene saper attivare anche delle modalità strutturate di intervento nei DSA anche a casa. Bene, sperando che possa essere utile vi invitiamo alla condivisione e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. A presto! Grazie! 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 Grazie!